Ben trovati in aggiornamento con le previsioni per la giornata di domenica quando un possente campo di alta pressione sarà posizionato proprio sul centro dell'Europa con i massimi tra la Germania e la Francia, ma interesserà anche gran parte dell'Italia. Andiamo al dettaglio, di fatti possiamo notare come sarà una giornata con assenza di precipitazioni almeno al centro nord e sulla Sardegna, massimi di pressione proprio al nord Italia e oltre Alpe, solo delle correnti ancora un po' fredde e umide dai Balcani lambiranno l'estremo sud. Andiamo a vedere di fatti come ci sarà più variabilità tra Mulise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, specie dal pomeriggio verso sera con sporadici locali piovaschi non del tutto esclusi. Invece al centro nord e sulla Sardegna bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi. Ulteriori dettagli scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.